Siamo ad Aversa in una celebre sartoria aversana, Mr. Bridgerman, la sartoria di VIP. Siamo qui con il titolare Antonio Di Mauro per un semplice motivo. È successo per la seconda volta in poco tempo che anche questa volta sono arrivati dei ladri, se così li possiamo definire, hanno fatto danno. Quindi c'è questo problema che si pone nella sartoria e che ci sono queste sgradite visite. Sì, purtroppo sì. In effetti già è la seconda volta che siamo preda di un delinquente che insomma durante la notte è venuto e abbiamo subito questo danno. Diciamo che ci troviamo un po' disagiati perché alla fine non abbiamo controlli. La seconda volta che questo personaggio, non sappiamo se è sempre lui o di altri personaggi che hanno sfondato il vetro e ci hanno fatto danni. Quindi diciamo che ci sentiamo pure un po' impauriti perché non è la prima volta, insomma, non siamo tranquilli. Cioè diciamo che questo è un problema che oramai da un po' di tempo in queste zone, qui nella Versano ma anche l'area Nord di Navo, insomma, si sta proponendo e la sartoria è stata vittima per la seconda volta in poco tempo. Dunque facciamo un appello anche alle istituzioni affinché ci siano controlli maggiori. Sì, assolutamente, perché ci vuole vigilanza, perché altrimenti queste persone fanno quello che vogliono, indisturbati. Assolutamente. Insomma ne approfittiamo allora perché questa è la sartoria dei VIP, l'ho detto prima, al netto del fatto di quello che è successo, comunque insomma il tuo lavoro continua. Assolutamente, il lavoro deve continuare. È quello che ci dà più soddisfazioni. Almeno alterniamo dalle delusioni alle soddisfazioni, assolutamente. Dunque grazie mille, insomma ringraziamo Antonio per questa sua testimonianza. Ripeto, faremo attenzione, grazie insomma anche dalla sartoria Bridgerman, come abbiamo detto, insomma la sartoria dell'IT, quindi al netto di questo, insomma se volete venire a farvi una passeggiata così venite anche insomma a controllare quello che c'è. Grazie mille da Domenico Silvestre, grazie a Mattino Amico per le riprese. Ripeto, vigileremo, staremo attenti a quello che succede qui, ma diciamo anche nelle altre zone dell'area nord di Napoli e sul di Caserta perché c'è la necessità di un controllo maggiore sul territorio perché oramai insomma è diventato complicato vivere. Grazie mille e seguite ancora la Bussola TV.